Le assoluzioni riservate al Papa Esistono dei peccati particolarmente gravi che solo il Papa può assolvere? Tra i peccati più gravi, che fondano la loro consapevolezza su materie particolarmente gravi, ve ne sono sei, la cui assoluzione nel foro interno sacramentale è riservato esclusivamente al Vescovo di Roma, cioè il Papa. La tradizione della Chiesa riconosce, sin dai tempi antichi, una certa differenza di valutazione tra i peccati. Nella teologia tradizionale questa diversità si configura sostanzialmente nella differenza tra peccato veniale e peccato mortale. La distinzione tra peccato veniale e mortale si basa generalmente su tre elementi. Materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso. Si compie un peccato veniale quando non c'è materia grave, oppure, se c'è, non c'è la piena avvertenza della mente o il deliberato consenso della volontà. Tra i peccati più gravi, che fondano la loro consapevolezza, su materie particolarmente gravi, ve ne sono sei la cui assoluzione nel foro interno sacramentale e riservato esclusivamente al Vescovo di Roma. Secondo una definizione classica, il foro interno sacramentale è il complesso dei rapporti tra il fedele Dio nei quali interviene la mediazione della Chiesa, non per regolare direttamente le conseguenze sociali di tali rapporti, ma per provvedere al bene soprannaturale dei fedeli, in ordine alla sua amicizia con Dio, cioè allo stato di grazia e quindi in ordine alla vita eterna. Nel foro interno sacramentale, il Papa affida il pieno esercizio del potere delle chiavi ad un penitenziere maggiore, tipicamente un cardinale, i peccati più gravi, la cui assoluzione, e riservata unicamente alla sede di Pietro, sono perdonati attraverso il ricorso del penitenziere, attraverso il confessore al penitenziere maggiore che regge a questo scopo la penitenziaria apostolica. I sei peccati particolarmente gravi, la cui assoluzione è riservata alla Santa Sede, sono la profanazione delle sacre specie, Il reato consiste nel trattenere impropriamente le specie eucaristiche per uno scopo sacrilego, superstizioso o osceno, sia individualmente che in presenza di altri, e un'offesa gravissima che oltraggia direttamente Dio, violazione diretta dei sigilli sacramentali, affinché si verifica una violazione diretta del segreto sacramentale, è necessario che il confessore riveli intenzionalmente un peccato ascoltato in confessione o anche l'identità della persona che lo ha rivelato, tentativo di assolvere un complice da un peccato contro il sesto comandamento del decalogo. Questo reato può essere commesso da un sacerdote che agisce come confessore e assolve un penitente da un peccato impuro in cui entrambi hanno preso parte. L'assoluzione, in questo caso, è invalida. Aggressione fisica alla persona del Romano Pontefice Questo reato, raramente riscontrato nella pratica, consiste in un'aggressione fisica alla vita e all'integrità della persona del Romano Pontefice, quindi solo il Papa può assolvere da questo peccato. Consacrazione di un bescovo senza mandato pontificio Questo reato consiste nel conferire ad un fedele il sacramento dell'ordine nel grado episcopale senza il mandato del Papa Tentativo di ordinazione sacro di una donna La soluzione per questo reato è concessa dalla congregazione della dottrina della fede in foro esterno e se è rimasto nascosto dalla penitenziaria apostolica in foro interno Tale ordinazione è invalida e sia il ministro che tenta di conferire che la donna che tenta di ricevere gli ordini sacri perdono la comunione con la Chiesa e la penitenza apostolica e in un tribunale tutto speciale chiamato anche tribunale delle anime attraverso la penitenziaria il Papa esercita la sua funzione di buon pastore universale ricordando a tutti che la nostra vita terrena è tanto più eterna non è segnata dalla giustizia ma dalla misericordia di Dio ricordiamoci di pregare sempre per il Santo Padre e per le sue intenzioni Amen Grazie a tutti